Ah, vivere domani, vivere domani, vivere domani, vivere domani Tu lo vuoi sapere perché non guardo più dietro a me Guardo avanti perché voglio vivere domani Tu lo vuoi sapere perché non guardo più dietro a me Guardo avanti perché voglio vivere domani Buonasera, ben ritrovati a Fuoriclasse Questa sera i Fuoriclasse sono quelli dell'Isis Manzini di San Daniele Noi andiamo alla scoperta delle scuole superiori della provincia di Udine e le scopriamo attraverso il personaggio, la figura a cui sono dedicate Questa volta nella insidiosissima, come al solito, scaletta preparata a Rino del Ponte che sbaglia 5 nomi su 6 di solito c'è anche questa difficoltà a inquadrare Manzini Perché ti sei trovato in difficoltà? Perché è un... a parte che io di giurisprudenza non capisco niente oltre a tutto il resto No, ma non lo facevo la battuta No, per cui è stato difficile capire il valore di questo personaggio che appunto ha brillato in campo penalistico, giuridico penalistico e non nascondo che sono andato a lezione per capire qualche cosa di più anzi devo ringraziare se posso gli avvocati Nardini e Coyutti che ieri hanno avuto la pazienza di farmi capire un pochino appunto quali sono stati Secondo me se ti rivolgevi ai ragazzi del Manzini magari scoprivi qualcosa di più e forse anche di meglio Ma siccome non avevo io, non potevo contattare loro sono convinto anch'io che avrei capito anche con la loro spiegazione ma non avendo la disposizione sul ricorso agli amici che ringrazio Poi avremo al telefono anche l'avvocato Lucio Tirelli che è un cultore del personaggio quindi magari riusciremo a capire qualcosa di più ma le cose più importanti da capire scusami se la facciamo un po' più corta le cose più importanti da capire sono cosa fa questa scuola cosa fanno i ragazzi, soprattutto cosa insegnano i docenti e alla fin del giro a cosa preparano i nostri professori Il significato della scuola sul territorio Il significato della scuola sul territorio questo è il precedente a tutto quel che ho detto io Comunque, professor Giuseppe Santoro, dirigente appunto, San Daniele, un'oasi di pace, di tranquillità un bel posto, eccetera, eccetera Il Manzini come si colloca in questa realtà? Sì, il Manzini è una realtà importante io penso di San Daniele la comunità ha un istituto superiore questo istituto superiore esiste da molti anni offre un servizio che io ritengo sia un servizio di ottima qualità e quindi è ormai legata a questo territorio che ha una sua storia, una sua vocazione e all'interno di questa realtà il Manzini sicuramente è una delle istituzioni che io penso, voglio dire, ha un glorioso passato ma deve avere non solo un presente ma anche un futuro nonostante i tagli, nonostante il dimensionamento nonostante le cose che sono accadute anche di recente e che hanno, voglio dire, sono intervenute proprio così anche a pregiudicare in qualche modo l'esistenza di questa istituzione che io penso debba essere preservata e debba continuare a offrire alla comunità il servizio che è stata in grado di offrire nel corso di questi anni La referente del progetto, quindi quella che ha dovuto sopportare Dino del Ponte in queste settimane è la professoressa Laura Sticotti e a lei chiedo com'è stato l'approccio di questi ragazzi a una tematica che forse, voglio dire se è stata difficile per Dino del Ponte posso immaginare che sia abbastanza ostica per un ragazzo di 16, 17, 18 anni Insomma ci sono stati alcuni problemi la figura di Manzini è una figura che ha comportato per noi delle difficoltà ma anche nel reperimento di qualche dato sulla sua vita sulla sua opera che abbiamo scoperto essere molto importante questi ragazzi sono stati molto bravi perché non si occupano di diritto penale loro studiano il diritto amministrativo di procedura tra le altre esatto sono stati supportati da un insegnante che di diritto appunto non sa nulla perché è una formazione classica umanistica ma non mi occupo di giurisprudenza quindi insomma ci siamo dati da fare un po' insieme aiutandoci e sono emersi comunque dati interessanti per ricostruire la storia di questo personaggio la sua opera per capire come possa essere ancora oggi per loro un modello Adesso ci arriviamo volevo fare una domanda così abbastanza estemporanea al professor Cragnolini Pierangelo Cragnolini ma chi è passato per la testa di intitolare a un giurista a una scuola che forma geometri liceo eccetera eccetera No, ne ho più parole di me Adesso non volevo non volevo essere particolarmente critico ma insomma è abbastanza curioso, no? Devo dire che non sono preparato perché sono un tecnico quindi non è midollo Del ponte, hai visto? Di giurisprudenza Assolutamente Lei lo sa, professoressa Sinigaglia? No Non lo sa Io ho letto che l'ha fatto il Comune ma non ricordo chi fosse al potere al tempo Lei lo sa invece No Che gestisse una libreria Però la pronipote di Manzini tuttora abbazzica San Daniele Abbazzica E acquista dei libri quindi forse per la località Ho capito Sì perché è nato a Udine e poi vediamo vediamo Elisabetta secondo me Elisabetta Masotti ci spiega tutto quanto così capiamo meglio le cose come stanno Prego Buonasera Allora Vincenzo Manzini fu un illustre san danielese nato ad Udine nel 1872 e si laureò a Ferrara in giurisprudenza fu un professore di diritto e di procedura penale lavorò in molte università italiane tra cui le più importanti possiamo ricordare Padova Ferrara o Siena nel 1898 fu nominato docente straordinario alla sua età di 26 anni mentre nel 1892 fu nominato docente ordinario fu anche membro del consiglio superiore forense e fu socio corrispondente del regio istituto Lombardo di Scienze e Lettere fu un modello di rigore per tutta la sua vita si dedicò agli studi Manzini fu uno scrittore prolifico e tra le sue opere più importanti possiamo ricordare il trattato di diritto penale italiano e il trattato di diritto processuale penale italiano nella sua vita si dedicò appunto molto agli studi e al diritto morì nel 1957 prossimo al compimento dell'85esimo anno d'età è finito? so che c'è un tuo un tuo collega che può approfondire la questione ed è Andrea Zilli esatto salve allora io parlerò del pensiero e delle opere di Manzini in quanto egli fu un sottoposto del regime del regime fascista e quindi bisogna certamente prescindere dal contesto in cui operò però bisogna anche dire che andò anche un po' contro l'ideologia del regime fascista in quanto in uno dei suoi trattati si dedicò estremamente alla difesa dei diritti degli ebrei che sicuramente a quell'epoca erano molto poco considerati date le circostanze però adesso parlerò dei suoi pensieri in particolare egli fu molto critico nei confronti dei sistemi giuridici dell'epoca ossia del sistema giuridico positivo e di quello classico e ne criticò i loro aspetti soprattutto per quanto riguarda quello classico che intendeva come sistema giuridico un insieme di norme più che altro spirituali o quantomeno dava delle connotazioni divine a questo sistema giuridico e di conseguenza Manzini si impuntò fortemente perché un sistema giuridico fosse ben diviso ben separato da questi elementi che potevano soltanto deviare il giudizio e il pensiero di un giurista di un uomo di diritto diciamo il pensiero di Manzini durante tutta la sua carriera durante tutta la sua vita variò diverse volte perché ad esempio all'inizio egli fu un noto un noto di importante sostenitore cioè sostenitore andava pesantemente contro la pena di morte durante la sua vita però diciamo certi fatti certi avvenimenti cambiarono pesantemente la sua idea fino a farlo diventare un aspero sostenitore della pena di morte stessa cosa fu per il principio importantissimo tra parentesi della presunzione di innocenza all'inizio egli sostenne ferventemente questo principio principio che durante la sua vita poi criticò quindi diciamo bisogna vedere anche questo lato di Manzini pronto diciamo a cambiare in base agli avvenimenti storici come ha già detto in precedenza dalla mia compagna egli fece diversi trattati come quello trattato su diritto penale italiano o nel 1897 quello sulla delinquenza in Friuli ma uno dei suoi delle sue opere più importanti fu senz'altro il codice Rocco elaborato intorno agli anni 20-30 insieme all'attuale ministro della giustizia uno dei più importanti giuristi dell'epoca il codice Rocco è il codice diciamo che tutt'oggi influenza molto il sistema giuridico e penale italiano perché molti principi di questo codice sono stati adottati presi come spunto per appunto elaborare l'attuale sistema sistema penale bisogna dire qualcosa di molto importante riguardo a questo codice infatti negli anni molti politici molte persone hanno portato in corte di Cassazione diversi articoli di questo codice Rocco che venne messo in forte discussione appunto dopo il crollo del fascismo ma la Cassazione appunto ha diciamo rigettato questi questi ricorsi queste sentenze pronunciandosi a favore di un mantenimento di questi principi che ha ritenuto fossero estremamente importanti per l'attuale codice di leggi e un po' questo è stato quello che ha fatto bene 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 insomma noi abbiamo grazie della tua la tua esposizione noi dovremmo avere al telefono appunto l'avvocato Lucio Tirelli vediamo se c'è pronto? si pronto ecco buonasera l'abbiamo disturbata buonasera a voi c'è come dire un ritorno forse nel micro ecco noi l'abbiamo disturbata perché Dino Del Ponte appunto ci ha detto che lei è appassionato cultore della vita e delle opere di Manzini e siccome la figura è abbastanza difficile da interpretare almeno per i profani volevamo sapere da lei quelle due tre cose se è possibile in una sintesi estrema che possono come dire identificare con precisione con una certa precisione la figura appunto del Manzini questo nel codice Rocco per esempio è abbastanza controversa nel senso che alcune cose sono state tacciate di fascismo ma altre erano per esempio contro le leggi razziali del Manzini e cose del genere insomma ecco se può dirci qualcosa io non vorrei dire altre cose perché sproloqui di sicuro rispetto a una materia che non conosco prego beh Vincenzo Manzini fu un giurista con la G maiuscola un uomo che non solo insegnò diritto e procedura penale nelle università italiane non solo esercitò la professione di avvocato penalista e fu iscritto all'albo fino alla sua morte ma prese parte alla radiazione dei codici penale e di procedura penale il codice penale del 1930 è tuttora vigente sia pure in qualche modo ammodernato ma salvo nei suoi elementi essenziali primo fa tutti rispetto nel principio di legalità che è il cardine attorno al quale ruota l'intera materia penale lo stesso codice di procedura penale Rocco venne è elaborato dal Manzini e nonostante ispirato per forza di cose visto il tempo in cui fu elaborato al principio acquisitorio sopravvisse anche alla transizione dall'ordinamento statutario fascista a quello repubblicano venendo soltanto nel 1989 sostituito dall'attuale e vigente codice di procedura penale che è figlio di uno degli allievi del Manzini quindi il Manzini fu un giurista tutto tondo la cui opera è proprio perché estremamente valida sotto profilo tecnico sia pure elaborata nell'ambito di un sistema autoritario e superato poi da quello repubblicano mantiene ancora oggi una sua validità e una sua attualità i principi che si possono leggerne nel trattato di diritto penale italiano sono principi ancora oggi assolutamente attualissimi se non altro nella loro trama fondamentale tanto che il trattato che pure è stato rieditato più volte nel corso degli anni e fino al 1985 aggiornato dagli allievi del professore è ancora oggi pur a quasi 30 anni distanza dall'ultima edizione e costituisce un'opera che può essere utilizzata anche nell'ambito dell'esercizio professionale cosa che io faccio ogni qualvolta a me si presenta l'occasione per essere brevi perché poi dobbiamo proseguire con la nostra trasmissione questa della scientificità del diritto penale è il portato ultimo e fondamentale dell'opera di Manzini Manzini venne considerato secondo la definizione di Calvi il sommo sacerdote di quell'indirizzo tecnico giuridico per il quale si esclude dall'orizzonte degli interessi del giurista qualsivoglia elemento di valutazione estraneo al sistema positivo dei precetti e delle sanzioni cioè quindi questo senso niente psicologia niente sociologia niente esattamente la scienza giuridica come scienza appunto come scienza che deve approfondirsi nella sua autonomia pur tenendo conto degli sviluppi di quello che gli sta intorno il diritto è vita viene dalla vita e va alla vita per regolarla benissimo la ringrazio avvocato l'avvocato Lucio Tirelli che ha contribuito a fare un po' di chiarezza su questa figura che ne io ne il professor del ponte che ne sa molte più di me eravamo riusciti a sbrogliare grazie avvocato allora adesso ci fermiamo un attimo e andiamo in pubblicità poi torniamo e cominciamo a parlare dell'istituto beh stavo per l'appunto siamo tornati in diretta stiamo parlando del Manzini e mi pare che come tempestività dei messaggini ci siamo ne leggo solo un paio poi siccome poi pioveranno no beh intanto Bortoluzzi e Girotto che sono i migliori ma salve telefidori sono l'ingegner Campi ho frequentato l'istituto Manzini ai miei tempi mi premeva domandare gli studenti come pensano che la loro scuola e il sistema dell'istruzione in generale possono migliorare al fine e diventare più propositivi perché ritengo importante ascoltare le opinioni dei diretti interessati colgo l'occasione per salutare il professor Cragnolini lo studente Mirko Bortoluzzi figura di rilievo nella mia formazione anche lo studente Mirko Bortoluzzi va bene va bene va bene spiacente di non poter essere insieme a voi saluto tutti i ragazzi il dirigente i colleghi il professor Del Ponte questo è il professor Baracchino siate sempre orgogliosi delle vostre radici solo apprezzando da dove venite potrete conoscere il mondo un saluto da Tiziana ex Manziniana ora a Londra Alina vabbè poi parleremo anche di Alina va bene intanto questo giusto per rompere il ghiaccio adesso cominciamo a parlare un attimo dell'istituto e lo fa Deborah a cui bisogna dare un microfono Deborah Meloni e ci sono le foto delle classi vediamo se riusciamo a introdurre la storia dell'istituto il nostro istituto nasce nel 1976 come sede staccata dell'istituto tecnico commerciale Zanon di Udine ottiene l'autonomia amministrativa nel 1982 con il corso per ragionieri e geometri e solo negli anni 90 riesce ad ampliare la sua offerta formativa con l'avvio del corso linguistico nel 91 con l'aggregazione del corso Ipsia nel 96 e con la nascita del corso del liceo scientifico nel 2001 attualmente però il corso professionale non è attivo in seguito alla riforma del ministro Gelmini il corso regionieri è divenuto il corso amministrazione finanza e marketing il corso dei geometri è divenuto costruzioni ambiente e territorio mentre il linguistico tradizionale ha lasciato il posto al linguistico moderno e per il liceo scientifico abbiamo subito soltanto una variazione del numero di ore per le varie discipline e l'istituto attualmente ha subito recentemente un processo di dimensionamento della rete scolastica in quanto si è separato dalle scuole inferiori medie di San Daniele con cui fino all'anno scorso formava un'unica entità l'istituto è situato in piazza 4 novembre in una posizione elevata di San Daniele vicino al centro storico cittadino l'edificio fu un tempo sede delle scuole elementari poi occupato dagli uffici dell'apertura e quindi trasformato nell'attuale sede dell'istituto in corso di quest'anno scolastico la scuola si è dotata delle lavagne interattive multimediali ed è in corso la sperimentazione attraverso l'utilizzo degli ipad in due classi del liceo scientifico esperienza che verrà ma questo lo facciamo dire al professor al professor Asquini no il par questa esperienza verrà ulteriormente espansa nei prossimi anni all'interno degli altri corsi di studio l'edificio si l'istituto è dotato di molti laboratori che vanno dall'aula CAD dal laboratorio di lingue all'aula multimediale al laboratorio di scienze all'aula di informatica e l'edificio è è lì è lì nessuno lo sposta sicuramente brava comunque è stata una bellissima esposizione la tua senti invece Deborah mi parlavi degli indirizzi a quale indirizzo appartengono i migliori del Manzini ragionieri ragionieri vero siete tutti d'accordo ovviamente no va bene a parte degli scherzi professor Santoro prima com'era lei ha detto ah una storia eccetera eccetera 76 prima com'era voglio dire prima delle ultime riforme delle numerose riforme scolastiche no prima del 76 no era lo Zanon credo esatto esatto c'era guardi questo è un problema non risolto ancora no sono passati davvero tanti anni ecco questo problema di decongestionare Udine e fare in modo che esistano nelle realtà territoriali dei poli scolastici che non solo sgravano Udine no di questa presenza qui la politica purtroppo voglio dire non ha mai deciso in maniera no non si è mai non c'è mai stata un'assunzione di responsabilità perché la parola d'ordine io ho un po' di memoria insomma delle cose che sono accadute nel corso di questi ultimi 20 e forse anche 30 anni la parola d'ordine era proprio quella rinforziamo i poli scolastici periferici e infatti le scuole voglio dire periferiche sono nate come sezioni staccate delle grandi scuole udinesi e quindi questo è accaduto anche a San Daniele così come a Codroipo a Gemona insomma a Cervignano questo è un po' il no ecco è stata la storia della scuola friulana degli ultimi 30-40 anni che cosa assistiamo oggi a questa difficoltà dei poli periferici a poter voglio dire mantenere la loro autonomia perché perché sono intervenute alcune disposizioni che di fatto prevedono e pretendono che le scuole periferiche abbiano determinati requisiti dimensionali per poter rimanere autonome ecco cosa che purtroppo e questo è esattamente quello che è accaduto l'anno scorso quindi storia recente ha determinato che cosa che tutte le scuole superiori della periferia hanno perso l'autonomia nel senso che sono prive quest'anno di un dirigente di un direttore dei servizi titolari io sono ho perso ero titolare all'istituto onnicomprensivo di San Daniele l'istituto onnicomprensivo non esiste più perché la scuola media è andata a costituire l'istituto comprensivo di San Daniele il Manzini è rimasto a questo punto non aveva i requisiti dimensionali per poter rimanere autonomo io sono oggi titolare dirigente titolare all'iceo classico Stellini di Udine e reggo anche il Manzini o questo istituto della regenza che è voglio dire un'altra delle cose un pochino strane e curiose insomma che purtroppo accadono e però voglio dire questa cosa che è accaduta a San Daniele in realtà interessa oggi Gemona Codroi è già emerso basta parlare della montagna esattamente non c'è altro da dire volevo vedere se era possibile fare un ulteriore passo indietro che era quello a proposito del terremoto del 76 ecco magari Cragnolini ha qualche memoria del tempo insomma il fatto che quest'istituto abbia gli stessi anni del terremoto forse vuol dire qualcosa forse no è una domanda all'epoca avevo 17 anni frequentavo il Malignani di Udine ripensando a quei tempi e al nostro modo di affrontare l'impegno scolastico vorrei raccontare a questi ragazzi un aneddoto ecco ricordo che il 7 maggio era previsto un compito di elettrotecnica avevamo un insegnante molto bravo professionalmente molto preparato si chiamava Luciano Lavezzi già da parecchi anni mancato era di Chiari qui a Udine noi eravamo così assidui così impegnati devo dire la verità quella volta nello studio pensate che quel giorno io per venire a Udine il 7 maggio l'indomani del terremoto ho dovuto venire giù a Udine in autostop perché non c'era nessuna corriera praticamente sulla statale passavano solo ambulanze vedevo passare pompieri passavano perfino autobus di quelli di Udine pieni di gente che andava su nel centro cittadino io sono di Campolino per l'esattezza beh in autostop sono venuto giù a Udine però sono arrivato anche un po' in ritardo quando sono arrivato arrivo alla sede centrale del Malignani e vedevo solo dei bidelli sull'entrata e lì nell'ingresso e non c'era nessuno studente evidentemente erano già stati mandati via e ho chiesto ma come mai cosa è successo questo bidelli mi ha detto ma scusa ma tu di dove sei? di Giamona ho detto questo per dire ecco che l'impegno no? la volontà di andare a scuola quel giorno a fare il compito di elettrotecnica sulla trifase per chi se ne intende di elettrotecnica ecco questo verrà dice lunga insomma comunque io vorrei che qualcuno fosse siete tutti troppo giovani evidentemente anche la professoressa Sinigaglia qualcuno mi ricordasse quei tempi poi cos'è nato da quei tempi il rapporto col territorio questa scuola che fa appunto di San Daniele fa parte del sistema San Daniele che è un sistema a misura d'uomo come si usa sempre dire lei ha qualche io sono di Padova ah lei di Padova posso dirgli io dove ero Padova l'unico che può parlare a questo punto è Dino del Ponte Dino del Ponte che ha una certa età che ha una certa età e anche ricordo ricordo bene il terremoto e il post terremoto e ricollegandomi un pochino anche a quello che diceva il preside all'epoca dopo il terremoto si è cercato di mantenere nel territorio più vita possibile quindi si è badato molto alla riapertura delle fabbriche prima delle chiese ricordo il vescovo Battisti che aveva appunto detto prima il lavoro e dopo prima le fabbriche poi le case poi le chiese e i castelli di Coloredo dopo un po' dopo 35 anni dopo e dopo appunto le fabbriche si è pensato alle scuole perché si riteneva che la scuola sul territorio fosse un baluardo di salvaguardia della cultura e anche proprio del vivere della socialità del paese del gruppo sul territorio quindi erano dei principi molto importanti e se hanno piantato tra virgolette i geometri lì a San Daniele penso anche tenendo conto di quello che dicevano proprio i geometri se ricordi col Marino proprio per preparare la gente in funzione della ricostruzione di riavviare tutto il processo sociale interessante quindi collegamento col territorio dobbiamo sottolineare se mi hai permesso direttore che al giorno d'oggi dopo lo dicono anche i ragazzi al giorno d'oggi si è perso un pochino il significato che ha la scuola e tanti pensano appunto ritornando al discorso che andando a scuola a Udine uno impara immediatamente e la scuola sul territorio invece sono scuolette di periferia scuolette di serie B vorrei appunto che ci pensaste un momentino e rifletteste sul valore invece che è la scuola per voi che siete lì con rapporti completamente diversi e per il territorio stesso di cui siete una risorsa e un arricchimento costante benissimo sentiamo se i ragazzi hanno qualcosa da dire rispetto all'attrattiva che può avere la città nei confronti di uno studente dei sedici ai diciotto anni qualcuno ha mai pensato di andare a scuola a Udine vi interessa è più interessante ci sono più opportunità ci sono più occasioni io posso continuare perché conosco un po' di vocaboli ma sarebbe bene cominciare anche a rispondere aspetta un attimo che ti diamo il microfono Bortoluzzi hai dei fans incredibili no dicevo se io sono stato a scuola anche a Udine posso dire con tutta onestà che non capisco chi abitando nel San Dagnelese va a fare un Marinelli piuttosto che un Manzini ecco questo questo penso sia importante perché innanzitutto per il tempo perché si perdono due ore al giorno di di viaggio innanzitutto e poi perché avere la scuola vicino a casa è un vantaggio anche come punto di riferimento proprio e di fatti spero anch'io che nonostante queste politiche di tagli che sono sbagliate perché sono trasversali cioè non tengono in considerazione molti fattori e sì spero anch'io che non venga non vengano privati gli studenti del San Dagnelese di questa ottima possibilità che hanno cioè quella di avere un istituto funzionale senti non pensi che ci sia come dire un certo indotto in città che può essere come dire gratificante per un giovane ma penso che molti la pensi cioè molti studenti ragionino così sì la maggior parte ragionano così io li li capisco ma non li giustifico le capisco ma penso sia una cosa abbastanza inutile ho capito sentiamo Manuela Manuela Malisano lei ha una libreria la libreria Wumeister come sono i ragazzi del San Dagnelese cioè stavo dicendo dell'indotto l'indotto non è quello che hanno pensato loro ma è anche un minimo di cultura l'aggiornamento una libreria una cosa del genere non c'è non so la domanda è molto ampia sicuramente vengono in libreria vengono in libreria vengono in libreria però forse la cosa bella insomma ancora dei ragazzi del Manzini che entrano con un sorriso cosa che spesso gli studenti magari in città non hanno cioè c'è ancora un po' una dimensione familiare che secondo me aiuta sia nello studio che anche nella crescita proprio dei ragazzi allora professoresi lei che è di Padova che ragazzi sono questi qua? sono ragazzi eccezionali innanzitutto poi a voi chiedo come sono i professori dovete ricambiare tra l'altro io che sono referente del dipartimento di sostegno del Manzini devo dire che sono ragazzi molto attenti all'integrazione e al fatto che i loro compagni di classe facciano quello che fanno loro quindi li accompagnano cioè è veramente una grande famiglia ecco i ragazzi del Manzini quindi hanno una sensibilità non dico superiore ma abbastanza accentuata per farsi carico anche di questa perché è una scuola è un istituto che non avendo dimensioni molto grandi insomma e quindi i ragazzi i ragazzi si conoscono tutti questa città stata sono tutti ragazzi del territorio si conoscono tutti tutti i ragazzi delle diverse sezioni si ritrovano a ricreazione quindi è un bello ambiente ecco bene allora ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità poi andiamo a vedere precisamente quali sono gli indirizzi però una cioè si può parlare anche in questa trasmissione si può guardare ma si può anche parlare andiamo in pubblicità allora eccoci qua con i manziniani che sono invitati a parlare anche degli sms da casa quindi vi prendete le vostre responsabilità domani con i vostri amici e oggi a questo punto vediamo cos'è il manzini oggi vediamo gli indirizzi di studio Nuto Girotto ti hanno dato il microfono dovrebbe funzionare tu parli del linguistico del linguistico sì il corso sperimentale e il voto te lo dà la Sticotti no no per favore beh praticamente cosa posso dire che diciamo faccio parte sono dell'ultimo anno e faccio parte appunto del corso linguistico sperimentale che diciamo si è discostato un po' dal corso originario che era quello di ragioneria c'è una diciamo una trasformazione del corso di ragioneria per esempio non so ci hanno inserito alcune materie umanistiche come il latino che facciamo fino in quarta e il e la filosofia e poi che altro dire ci hanno aggiunto anche una terza lingua per esempio nel mio caso faccio scusate tedesco inglese francese e ci hanno anche ci hanno tolto alcune materie che sono le materie tipicamente del corso di ragioneria che è economia politica insomma e mi sfugge l'altra materie economia aziendale scusate e niente quest'anno noi siamo i penultimi che usciamo diciamo formati con questo corso sperimentale e prossimo anno usciranno proprio gli ultimi di questo corso sperimentale poi diciamo ci sarà tra virgolette l'era del linguistico moderno ecco ho capito i professori come sono? i professori i professori le dirò che mi dica mi dica i professori sono sono divertenti sono disponibili cioè nel senso che cioè si sono vicini a noi ragazzi cioè spiegano in un modo interessante non sono scusate la parola pallosi ecco pallosi ci sono molto presenti ci seguono decisamente usciremo credo tutti quanti con un'ottima formazione sì questo sicuramente il più divertente? il più divertente? il professore più divertente? secondo me il professore di filosofia professore di filosofia quello più palloso? ti stai giocando ti stai giocando la maturità il professore più palloso no non saprei mediamente sono lì no non posso non vorrei dirlo no no non farlo non farlo non lo faccio no 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 sentiamo se qualcun altro apprezza questo tipo di divisione si possono dividere i professori tra divertenti e pallosi o c'è anche qualcos'altro qualche altra categoria dello spirito che vi che vi intriga vediamo se c'è qualche sis per esempio sis che sei stata invitata a parlare via sms quindi devi dirlo eh mi cogliete in preparata no voglio dire i professori sono solo divertenti o solo pallosi oppure sono bravi non bravi cattivi non cattivi veloci lenti rock che ne so beh diciamo che c'è di tutto però boh insomma pretendono però insomma penso sia tutto per il nostro bene spero ho capito vabbè a Manzini si insegna molta diplomazia a parte il nostro amico no 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 comunque bene insomma bene? sì 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 ok allora Laura Sticotti professore Sticotti bene o lei dove si colloca tra il palloso e il divertente? ma io ho un rapporto sempre molto orizzontale con i ragazzi vengo bacchettata dai colleghi per questo mio lineare come direbbe eccesso di disponibilità forse insomma mi piace essere così per carattere sono una giovialona e credo che nessuno possa smentire questo ho capito però do anche i miei quattro i miei tre i miei due sì senza problemi sul linguistico cosa ci dice? allora del del nuovo linguistico dopo la riforma Gelmini diciamo è stato ripristinato un corso tradizionale di liceo linguistico perché il corso di cui ha parlato Nuto è appunto il linguistico moderno che era comunque una sperimentazione molto interessante tra l'altro il linguistico di oggi che arriva quindi fino alla classe terza e abbiamo alcuni esponenti di questo corso sostanzialmente ha mantenuto appunto le tre lingue ha ridotto l'insegnamento del latino ai soli primi due anni con loro grande gioia e poi ha giocato sulle materie tradizionali riportandolo proprio ad un liceo sul solco di una storia di una scuola di impostazione umanistica quindi comunque le discipline che tradizionalmente si trovano appunto in un liceo la storia e la filosofia nel triennio e poi anche un'apertura verso la fisica che mancava al precedente indirizzo e alle scienze che si portano avanti in tutto il quinquennio quindi un indirizzo completo complesso molto ricco e insomma io voglio invece ringraziare ringraziare i colleghi soprattutto dell'indirizzo linguistico del Manzini che portano avanti molti progetti che aiutano questi ragazzi anche ad uscire dalla realtà san danielese forti di quello che la realtà san danielese da loro molto bene adesso dovremo affrontare il liceo scientifico però direi che cominciamo a preparare questa sorpresina che ci hanno fatto i ragazzi del Manzini con come ti chiamano Ian 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 Thomas no Giacomo Thomas no Giacomo Thomas pensavo Ian Anderson che fa parte del mio bagaglio di vecchione e allora ti prepariamo no in qualche modo e invece Francesca Damiano ci parla Francesca Damiano ci parla datele il microfono ah ecco Francesca Damiano ci parla del liceo scientifico allora io faccio parte della terza liceo scientifico quest'anno abbiamo avuto un progetto che è il progetto ipad e il progetto nel progetto ipad noi possiamo possiamo utilizzare questo ipad per moltissime moltissime cose possiamo prendere appunti possiamo fare video possiamo spedirci le annotazioni anche per e-mail i professori possono anche inviarci i compiti per casa e siamo stati anche molto avvantaggiati perché le lezioni sono molto più vivaci c'è una grande partecipazione c'è stato un all'inizio i genitori hanno dovuto pagare una cifra di 130 euro per l'acquisto dell'iPad ma il resto del prezzo è stato pagato dalla scuola e comunque non adesso ci troviamo benissimo grazie all'iPad finito così avete un microfono per il nostro amico David Asquini ecco era lì era lì era lì no appunto siccome sentivo parlare di iPad e queste cose qua so che lei no? si si traffica un po' beh sì certamente a parte il fatto che lo uso ogni giorno in quanto sono proprio in una di queste classi sperimentali io insegno in prima e in quinta insegno latino storia italiano e geografia o meglio geostoria perché grazie alle ultime trasformazioni non esiste più geografia e storia ma esiste una materia unica che si chiama geostoria dove si fa in realtà più geopolitica ed economia ovviamente sempre a livello geografico e quindi per esempio il problema della globalizzazione viene trattato in maniera ampia ma tornando all'iPad diciamo che geopolitica però è una cosa abbastanza ha ripreso vigore ultimamente sì beh certamente poi chiaramente sta anche un po' all'indole di ogni docente approfondire uno o più argomenti io parlo per me stesso i ragazzi hanno assolutamente bisogno di una materia del genere legata chiaramente alle basi storiche classiche che tutti noi conosciamo o dovremo conoscere diciamo che il processo tecnologico il Manzini ormai è una consapevolezza non più un azzardo una sperimentazione si chiama ancora sperimentazione ma perché ormai stiamo finendo l'anno scolastico dal prossimo anno non sarà più sperimentazione ma sarà una cosa che ormai è già stata sperimentata quest'anno prima è terza io insegno in prima e in quinta invece in quinta non si fa con l'iPad in prima sì quindi ho la possibilità di vedere proprio le differenze tra due generazioni ormai hanno quattro anni di differenza ma si parla già di una generazione quando si parla di tecnologia in quattro anni cambia tutto chiaramente i ragazzi di quinta vivono la tecnologia per proprio conto e chiaramente usano il computer per proprio conto per preparare le tesine e tutti i lavori scolastici quelli invece di prima che sono nativi digitali stavo pensando proprio i nativi digitali una parola che ormai dobbiamo conoscere per forza usano l'iPad o il computer o la LIM veramente dappertutto la LIM è la lavagna ovviamente elettronica si chiama appunto interattiva e multimediale perché grazie a quella noi possiamo praticamente fare qualsiasi cosa in collegamento virtuale con qualsiasi posto del mondo ricordo anche che da noi due anni fa proprio io tra l'altro ho fatto lezione via Skype che è un processo che ormai potremmo definire già antico tra l'altro Skype è quel modo di telefonare praticamente si con la diciamo una videochiamata una videochiamata a prezzi molto bassi si beh gratuita addirittura perché c'è soltanto il collegamento internet con dei ragazzi che erano in ospedale per problemi chiaramente di salute e questo è stato fondamentale per me perché è stato l'input per arrivare fino ad oggi è stato fondamentale spero anche per i ragazzi ma soprattutto per me perché ho imparato moltissime cose tra l'altro hai avuto anche la soddisfazione di portare avanti un programma di latino che insomma non è proprio la materia più facile al mondo portando poi questi ragazzi insomma l'esame anche con ottimi voti nonché procedendo anche a livello ovviamente psicologico quindi è stata una terapia direi tutto compreso ho capito per quanto prego no la cosa che mi interessava era quella dei nativi digitali per me quelli in quinta sono già nativi digitali visto che io appartengo alla carta e quindi sono già fatto fuori ma la differenza tra quelli di prima nativi digitali e questi che tutto sommato sono nativi digitali un po' più vecchi ma insomma qual è? beh c'è tanta differenza in realtà c'è differenza nel senso che loro si approcciano al mondo in maniera diversa quelli di quinta sono più vicini a noi ormai mi metto anche io dalla parte insomma di quelli ex giovani beh insomma ancora un po' di tempo dai beh insomma sì passa comunque sì sì perché vivono l'approccio rispetto agli altri alla realtà in maniera diversa più legata alla frontalità i ragazzi di prima che usano appunto gli strumenti tecnologici li usano per fare qualsiasi cosa li usano chiaramente per il tempo libero ma anche per lo studio e questo sta diventando un processo abituale e chiaramente necessario le faccio un esempio oggi per studiare d'annunzio si possono fare diversi metodi che sono quello frontale normale oppure quello di per esempio vedere direttamente dalla LIM le immagini d'annunzio vedendo le immagini si capisce d'annunzio non vedendo le immagini direttamente proiettate attraverso i video che ci sono per esempio su internet senza andare tanto a cercare lontano si capisce d'annunzio perché avevano le pose d'annunziane esattamente ho capito va bene niente allora ci fermiamo un attimo posso chiedere al professore perché sono se voi siete non nati digitali io sono profugo per il computer è un flisto volevo chiedere nel ragionamento poi c'è una differenza fra quelli che hanno un apprendimento dal testo tradizionale e quelli che hanno invece l'apprendimento attraverso l'iPad per quello che riguarda per esempio il latino torno difficoltà a fare le connessioni ho capito direi proprio di no non c'è differenza perché il latino rimane il latino noi stiamo parlando di strumenti strumenti chiaramente che possono coinvolgere la psiche in percorsi che possono essere differenti ma soltanto mediamente differenti il latino va imparato e va studiato noi parliamo sempre di strumenti che vanno quindi gestiti al meglio c'è il classico pensiero per esempio di molte famiglie giustamente sul collegamento internet free sia a casa che a scuola chiaramente per i pericoli per esempio ma noi stiamo parlando di uno strumento attraverso il quale dobbiamo fare i conti i conti sia in positivo che in negativo chiaramente le famiglie ma noi tutti devono sapere che lo studio è esattamente la stessa cosa ma la consecucio temporum per esempio capito la consecucio temporum usquettante che è un ragionamento astratto è possibile chiedo appunto però c'è il ragazzo che sta lì col flauto a dopo a dopo grazie grazie allora abbiamo detto Giacomo Tomat Giacomo Tomat da quanto se gli date un microfono momentaneamente mi risponde anche da quanto tempo suoni da quattro anni da quattro anni perché hai cominciato a fare questa cosa inizialmente perché si è aperta la scuola vicino casa a due passi e allora abbiamo detto boh facciamo anche quella facciamo anche quella tanto tempo ce n'è poi con lo studio dello strumento ho concepito che è uno degli strumenti principi della musica anche contemporanea o comunque classica al più ma ancora tutto da svilupparsi in ambito jazz rock folk benissimo cosa ci fai sentire? è un pezzo di Rachmaninoff vocalize diamo il microfono al tuo amico e via grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Anche perché non si smentisce e ha mandato un messaggino del seguente tenore. Il Manzini ha scritto i promissi spisi e quindi questo è il livello della scuola. No, no, a parte gli scherzi. No, adesso andiamo avanti con ragioneria. Abbiamo Deborah Meloni. Le materie principali del mio corso sono l'economia aziendale, il diritto, l'economia politica. In seguito a questa riforma il numero di ore è rimasto lo stesso, ma è cambiato per alcune materie. Così, guarda, così, sono aumentate il numero di ore di alcune materie, mentre altre diminuite e alcune materie finiscono nel biennio, mentre noi ce le portiamo fino in quinta. Finito? Finito? Se è finito va bene. Perché adesso c'è Giulia Peloso. No, sono prima io. Così mi piaci, così mi piaci. Tu sei? Chi vi lo ha, Emeril. Buonasera, sono uno studente del corso AFM, amministrazione finanza e marketing. È questo corso che ha sostituito appunto l'IGEA e è un corso che è basato su 32 ore settimanali, quindi che non variano, e che appunto ha un aumento della marketizzazione, come ora ci spiega meglio Giulia. Ecco, hai fatto tutto tu, adesso c'è Giulia. Bene, 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 bene. Sì, buonasera. Allora, come diceva il mio compagno prima, nelle 32 ore sono rimaste tale e quale, invece sono state modificate alcune ore per quanto riguarda le varie materie. Per esempio, la geografia, lo studio della geografia si termina in seconda, mentre quello dell'informatica in quarta. Alcune materie hanno sostituito altre, come la matematica applicata, che ha sostituito la matematica al triennio. Alcune ore appunto sono state diminuite, come l'economia aziendale e altre sono aumentate come l'economia politica. Infatti, noi alla settimana facciamo un'ora in più. Ah sì, per quanto riguarda lo studio delle scienze, anche queste terminano in seconda. In prima si dedica tempo alla fisica, in seconda invece alla chimica e allo studio della scienza della natura. Basta. Bene, geometri. Alex Battigelli, finalmente. Buonasera, sono Alex. Battigelli? Sì. Frequento la quinta geometri e diciamo che siamo i penultimi geometri, perché il nostro corso con la riforma da geometri viene chiamato CAT. Il nostro corso, posso dire personalmente, ci dà delle conoscenze molto ampie. Studiamo moltissime materie molto interessanti e molto approfondite, che ci danno uno sbocco sul lavoro, come la topografia, costruzione, estimo. Riguardo al discorso di prima delle scuole sul territorio, abbiamo avuto una prova l'anno scorso di questa vicinanza, perché abbiamo potuto partecipare a un progetto con il nostro prof. Cragnolini, del rilievo di una... Topografico? Sì, esatto. Con una convenzione fatta dal nostro preside con il comune di Dignano. E credo che queste esperienze siano molto... Il lavoro è stato premiato a Vicenza? Sì, siamo arrivati primi in Italia. Ma diciamolo, no? Sì. Io capisco la modestia. No, è stato un lavoro molto lungo, però molto divertente. Sì, almeno io sono orgoglioso di aver fatto parte di questo progetto. e sì, ringrazio la scuola per il prof, per la sua disponibilità, per averci aiutato a fare questo progetto. Io vedo questa strumentazione. No, no, ah sì. Perché vedo che c'è anche qualcosa del genere qui. Non so se qualcuno vuole spiegarmi se è il professore o... Ah, boh. Vieni tu? Sì, viene anche lei. Viene anche lei, fatti accompagnare. Allora, senza microfono non vale. Tengo io, tengo io. Queste sono le classiche strumentazioni dei geometri. Con queste noi misuriamo angoli, distanze, dislivelli. Per restituire, diciamo, una volta si faceva su carta, ora su computer, la morfologia del terreno. Guardate le camere. Questo per vari tipi di opere, che possono essere la costruzione, costruzione o demolizione di fabbricati o di opere pubbliche. Diciamo, lo strumento standard che utilizziamo è formato dal treppiede e dalla stazione totale, con la quale noi possiamo misurare angoli e distanze. Questo strumento emette dei raggi infrarossi, che vengono riflessi da quello strumento lì che viene chiamato prisma. Puoi parlarne tu? Adesso arriviamo prima. Vieni qua, vieni qua. Il segnale viene rimandato indietro, così noi possiamo sapere la distanza esatta tra i due punti. Abbiamo, nel progetto ho parlato prima, abbiamo rilevato circa 4.500 punti. Abbiamo rifatto lo stesso procedimento anche con un GPS, fornitoci dalla scuola per, sì, non comprato perché il costo sarebbe stato troppo elevato. C'è stato fornito, sì, in prestito, questo strumento. Abbiamo misurato di nuovo tutti gli stessi punti e sì, è stato riconosciuto il nostro lavoro a livello nazionale. Bene, come ti chiami? Samantha. Samantha, è difficile usare queste cose? Buon, io comunque l'anno scorso non c'ero, sono arrivata al Manzini quest'anno e quindi non ho partecipato a questo progetto. Non sono comunque cose facili da usare, però alla fine fa parte del nostro lavoro, quindi... Come ti sei trovata al Manzini? Bene. Bene perché? Bene perché ho... Tipo facile dire bene, perché con la risposta è bene? No, ho visto, sono stata anche nelle scuole di Udine, è piccola, confronto a un Marinoni, confronto al Volta, però comunque molto più, anche gli studenti sono molto più legati fra loro, il rapporto fra professore e studente è diverso, confronto alla scuola di Udine e mi sono trovata... Bene, direi che possiamo tornare là, abbiamo capito anche alcune altre cose, ma soprattutto questo che ha detto la nostra amica riguarda il senso di... di piccola comunità che non fa che confermare appunto tutto il discorso che si è fatto finora. Delle classi sperimentali, parliamo, visto che sull'IPAD ci siamo già soffermati, Francesca Damiano. Sì, allora, noi facciamo parte della riforma Gelmini e quindi abbiamo avuto alcune modificazioni sul piano orario. In terza facciamo sulle 30 ore e in quinta, nel vecchio ordinamento, facevano 30 ore, quindi c'è stato un aumento di ore. Facciamo un'ora in più di italiano, un'ora in meno di latino, per dare spazio naturalmente alle materie scientifiche come la fisica, la matematica. Io mi trovo benissimo in questa scuola. Datemi un voto alto. No, va bene, poi facciamo... Hai altro da aggiungere? No, va bene così. Allora, ci fermiamo ancora un attimo, poi rientriamo e parliamo anche di altri progetti che sono stati portati avanti dal Manzini. Comunque si conferma questa cosa. La cosa che mi colpisce, professore, è che tutti parlano delle ore tagliate, delle ore rifatte, hanno parlato dell'IPAD comprato, no, come dire, contribuendo all'acquisto, abbiamo sentito che il GPS ce l'han prestato perché costa... Cioè, insomma, la scuola la percepiscono in maniera molto reale, anche questi ragazzi, cosa dice? Dico di sì, però anche, voglio dire, in un contesto così piccolo, no? La scuola di comunità, la scuola che ha, voglio dire, un rapporto positivo col territorio e, voglio dire, nonostante questa dimensione, noi siamo stati capaci, insomma, io davvero sono orgoglioso, anche un pochino, voglio dire, così, della mia audacia, anche da un punto di vista amministrativo, perché l'anno scorso, con il dimensionamento che ha, no, ci ha, diciamo così, costretti a perdere un pezzo di istituto, e voglio dire, non ci siamo così, insomma... Abbattuti. Abbattuti, bravo, ecco, esatto, non ci siamo così messi a piangere sul nostro destino un po' ingrato, no? Cinico e baro, ma abbiamo voluto, e io, voglio dire, mi sono fatto promotore, insomma, parte attiva, ma anche il collegio dei docenti, insomma, ha risposto positivamente a questa sfida, abbiamo voluto rilanciare proprio sul piano, voglio dire, della qualità, perché siamo d'accordo, no? Ci hanno privato, ci hanno, voglio dire, privati anche poi, insomma, di una direzione stabile, insomma, dell'istituto, e nonostante questo, voglio dire, abbiamo accettato di metterci alla prova. Con risorse proprie, senza chiedere aiuto a nessuno, anche una realtà, voglio dire, piccola come la nostra, è stata in grado, l'anno scorso, di investire circa 100 mila euro per l'ammodernamento tecnologico, quindi l'acquisto delle LIM, ogni aula ha le LIM, ci sono la sperimentazione degli iPad, a, voglio dire, prezzi contenuti, perché parte del costo, voglio dire, di parte del costo se ne è fatto a carico, se ne è fatto a carico, la scuola e l'istituto, abbiamo garantito, voglio dire, anche internet e il wifi in tutto l'edificio, e il Manzini è, io dico, a mia conoscenza, non conosco altre situazioni, altre realtà analoghe, sul territorio della nostra regione, a tutti gli effetti, una scuola, una scuola 2.0, quindi, voglio dire, sono davvero orgoglioso, con questa definizione la fermo, orgoglioso di questo, che vuole dire tutto, perché cosa abbiamo, il Papa 2.0, Napolitano 2.0, no, ma c'è anche la Lega 2.0, quindi lei capisce, voglio dire che, posso fare una domanda, posso fare una domanda, del Ponte continuo a interrompermi. Preside, volevo chiederti, perché mi è sembrato di capire che piaceva la unione delle scuole superiori con le scuole medie per fare un istituto comprensivo, diciamo? Allora, io, questa soluzione che è stata scelta e decisa nel 2000, primo dimensionamento, e tu te lo ricorderai, insomma, dibattito e discussione molto animata e accesa, a San Daniele si decise per questa soluzione, proprio perché non si voleva perdere l'istituto superiore e l'autonomia dell'istituto superiore. Ma era positiva? Esperienza con luci ed ombre, però io ero assolutamente convinto della bontà di quella soluzione, anche da un punto di vista organizzativo. Allora, avevi visto la posizione che avevi nei miei confronti quando io lottavo? No, vabbè, insomma, tu adesso... Questo conflitto di interessi pazienti, il fine giustifica i mezzi, andiamo in pubblicità. Di nuovo in diretta con i ragazzi, i docenti del Manzini, io devo due cose al professor Cragnolini. La prima è una domanda sui geometri, perché è lei che ce n'è. La seconda è che parli in friulano. Ah, non c'è problema. Basta dirlo. Mi invita a nozze, questa è l'ultima cosa che dico in italiano. Benissimo. Allora, è ciò di dire? Allora, la prima cosa è che riguarda la figura del perito e che dal geometra. Ok. A questo punto sì, no? Sì, allora, di tanto tempo erano due figure che si occupavano dell'ambito delle costruzioni. Allora, il perito di Il, che è saltato fuori dal Malignani o che è saltato fuori dal Solari di Tumic. E dopo l'era il geometra con i vari istituzioni che sono sul territorio. Con la riforma che è stata fatta, praticamente, che si fonde in un'unica figura. Quindi il tecnico che è al Venfur di scuola, è diplomata appunto in costruzioni, ambiente e territorio. Non è poi un perito di Il, non è poi, diciamo, un diplomat geometra. Ma ecco, c'è cambiamento non stasso a proposito delle materie. Dunque, la formazione di base iniziale di Zinca resta che contiene forte impronte come sulla lingua straniera, sull'inglese, sulla matematica che viene importata sin davanti più di una volta. Dopo ci sono cambiate, prima, diciamo, prima della riforma, i peri sedi avevano una specializzazione che gli portavano di poi a lavorare in tal cantina, e i geometri a lavorare di poi sul territorio, per i servizi, catastali, pratiche, successioni, e le stimmie, no? Come queste due figure sono fondate, sono un'unica figura, per cui anche quei che aire, a volte, i geometri, avrebbero a fare con la materia del cantiere, sono ridotte, questa è proprio una novità, è in pratica, prepotentamente, diciamo, di attualità, la spie della sicurezza, della sicurezza con tutti i risultati, perché ormai è in mercato del lavoro, la sicurezza è estremamente importante, e ha un indotto grandissimo. Mercato del lavoro, parola magica, piace il lavoro? Secondo me, il lavoro si luccate semplice, si dimostra di voi buona volontà e umiltà. Secondo me, se uno ha la voce di chiare il lavoro, non ha di voi pretesi, ha di dimostrare di essere una persona che vale, che è tenace, che ha coraggio e volontà, e ha chiesto sempre il lavoro, secondo me. Secondo me, non lo comenta neanche là lontano, all'estero, all'estero va bene là, secondo me piace essere con noi, si imparano tante cose, si imparano le lingue, ma non a chi, soprattutto perché l'ambito, l'ambito delle costruzioni, i vari semplici lavori, il territorio stesso ha semplici lavori, infatti, il corso di studi di chi, come si chiama, costruzioni, ambiente e territorio, l'aspetto ambiente e territorio, all'acquisto è tantissima importanza, quindi secondo me a lei un futuro sicuramente. Benissimo, prima di parlare degli altri progetti, Comenius, Casa Elena, il gruppo teatrale, poi sentiamo ancora una performance del nostro amico Tomat, una battuta con Manuela Malisano, cosa le ha dato il Manzini? E com'è che è finita a fare la libraia? Beh, sono finita a fare la libraia, grazie al Manzini, a veramente tutto quello che mi ha dato, perché l'università è stata veramente in discesa con il bagaglio che mi sono portata dietro, affiancata all'università, poi abbiamo avendo riformato il gruppo di teatro, dopo anni che non c'era, siamo stati i primi, mi sono anche diplomata in teatro, e da lì le cose sono nate, come una formazione umanistica con volontà di conoscere un po' di tutto, e quindi l'amore per i libri e l'amicizia con un altro ex manziniano, un geometra, ci hanno spinto in questa avventura. C'è il geometra che ha fatto le misure del... No, il palazzo era già così. Era già così. Però adesso stiamo lavorando ad un progetto in cui le sue conoscenze... Cosa leggono questi manziniani oggi? Leggono un po' di tutto, leggono a sbuffo quello che a volte gli insegnanti di lettere danno. Con grande piacere quello che gli insegnanti illuminati di lettere danno, perché sono gli insegnanti che al Manzini vanno per la maggiore, per la mia esperienza. E il libraio cosa consiglia a un giovane, a un ragazzo che si sta... Un libro a casa. Un libro di formazione. Non so, direi scontro di civiltà per un ascensore in Piazza Vittorio di Amarra Lacus, perché ci rappresenta l'Italia e l'Italia dove sta andando adesso. La multiculturalità e l'apparente facilità con cui la stiamo apprendendo, ma è il lavoro che dobbiamo fare. Poi me lo dice, me lo leggo anch'io perché non l'ho letta. Allora, passiamo ai progetti. Comincio subito dalla professoressa Sinigaglia perché credo sia... Sono tutti importantissimi, ma credo che questo abbia una valenza particolare. Allora, progetto Casa Elena. Allora, progetto Casa Elena è un progetto molto importante che è nato nell'anno scolastico 2011-2012 per volontà di una mamma, di un'allieva che partecipava, che frequentava il nostro istituto, che si chiama Elena e che ha lasciato la casa, la sua abitazione, incomodato d'uso ad un'associazione di Ragonia che si chiama il Samaritan, che gestisce la casa. Ma i ragazzi che frequentano il Manzini, in particolare l'anno scorso erano cinque ragazzi che frequentavano, che partecipavano a questo progetto. Tra di questi sono usciti l'anno scorso e ne sono rimasti altri due nel nostro istituto e se ne è aggiunta un'altra. È un progetto di raggiungimento delle autonomie personali e gestionale. In pratica i ragazzi svolgono un'attività di alternanza scuola-lavoro, scuola-Casa Elena, per il raggiungimento di tutte le autonomie che possono servire a loro per un futuro in autonomia oppure in abitazione con i genitori. Praticamente i ragazzi ci sono anche delle immagini, delle foto forse. Spero che siamo passati. Ecco, partono, fanno alcune giornate, due giorni alla settimana, in particolare il martedì e il giovedì, a l'ora di ricreazione. Dopo l'ora di ricreazione sono seguiti da degli educatori fantastici che sono in contatto anche con noi, con gli insegnanti, i curricolari, con gli insegnanti di sostegno. Aggiornalmente noi ci parliamo, ci comunichiamo e quindi vediamo quelle che sono le abilità, le risorse, le strategie da adottare, le difficoltà che ci sono in quel momento. I ragazzi fanno la spesa con gli educatori e quindi decidono un menu, vanno in supermercato, fanno la spesa, pagano la cassa, poi vanno in casa Elena, preparano il pranzo, puliscono, fanno tutte e quelle attività di pulizia stirano, lavano, quindi in modo che questo possa aiutarli poi a gestire in modo autonomo la loro vita futura. Due domande, questa cosa è finalizzata a un futuro lavoro nell'assistenza o no? No. Seconda domanda, la solidarietà si insegna e che qualità bisogna avere per imparare sulla solidarietà? Allora, questo è un progetto che è nato grazie alla solidarietà di veramente tantissime persone. È un protocollo d'intesa tra la scuola Manzini, tra l'AS numero 4 e l'associazione Samaritan. Senza la solidarietà di tante persone questo progetto veramente non... Poi la solidarietà nasce, cioè è una cosa che è una cosa... Mi interessava sapere se poi alla fine uno dice ho imparato anche questo tipo di cosa che mi piaceva e quindi sentivo di poter fare, di dover fare e trovavo uno sbocco anche lavorativo perché insomma si sa che l'assistenza è una delle prossime frontiere dell'occupazione. Certo, del futuro, del futuro. Esattamente. Va bene, grazie professoressa. Quelli che vanno in giro, i Comenius, Carol Battigelli? però senza microfono non esiste. Buonasera. Allora, vai col Comenius. Allora, il Comenius è un progetto europeo a cui noi insomma parlo del linguistico, quarta, quinta, adesso la professoressa Sgubin di cui appunto si occupa insomma di questo grandissimo progetto verrà appunto coinvolta. Sì, parlavo della terza, scusate. Boh, comunque questo progetto è veramente una cosa fantastica, è un'esperienza che a noi ha cambiato la vita e veramente, cioè non sto scherzando, perché si viene a contatto con delle culture diverse. In cosa consiste? Scusa, facciamo una premessa. Abbiamo fatto questo e questo, poi? Sì, praticamente, allora, noi abbiamo rappresentato la professoressa Sgubin e siamo andate in Lituania. Lì abbiamo conosciuto altri ragazzi provenienti dai paesi europei, insomma, provenivano da quanti paesi? Circa nove, sì, nove paesi, quindi Germania, cosa era? Lituania, Lettonia, eccetera, 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 e lì siamo venuti a contatto con le culture però in particolare diciamo ci siamo resi conto veramente di essere fratelli e è stato veramente bello. Poi quando loro sono arrivati qua in Italia che era a marzo abbiamo potuto condividere un sacco di cose li abbiamo portati anche a Venezia e loro si sono divertiti un sacco perché se potete immaginare poi c'era un tempo stupendo ed è stata veramente un'esperienza fantastica e ringraziamo molto la professoressa Sgubino. Sentiamo Donato Makovez che abbiamo visto il mio talato in profondi studi europei. Sempre sul Comenius o sullo scambio con la Francia? Sullo scambio con la Francia per il Comenius in carica la esaurita. Allora, lo scambio con la Francia con Altkirch in realtà che è una cittadina alsaziana di 10.000 abitanti così è forse lo scambio più collaudato e quello che riesce meglio. Io ci sono stato l'anno scorso studiavo francese da 5 mesi ed ero terrorizzato perché poteva essere un disastro. Io oltretutto sono imbranato di mio per cui potete immaginare nonostante questo ma non lo dico per dire una frase fatta ma è la verità io mi sono trovato benissimo ero sconvolto alla fine perché non volevo tornare a casa e non avevo voglia di partire. A parte il fatto che comunque abbiamo visitato delle città bellissime Strasburgo Colmar Basilea e poi la stessa Alkirce è molto affascinante diciamo come tutta l'Alsazia e poi insomma una cultura diversa quella francese insomma venire in contatto con queste questa cultura insomma è stato qualcosa di molto interessante. Ragazze? Ragazze insomma le francesi Alia Alia? Sì Alia prego anche tu raccontaci la tua esperienza anche io ho partecipato insieme alla quinta allo scambio con Alkirce però io vorrei anche parlare di un altro progetto che abbiamo avuto la fortuna di fare sia in quarta che in quinta noi che è il progetto volontariato in quarta abbiamo seguito un percorso più che altro che ci ha avvicinato a che cos'è il volontariato e quest'anno invece abbiamo scelto noi il tema sulla salute mentale ed è stato anche molto azzeccato perché vicino alla scuola abbiamo anche il CSM di San Daniele ed è venuto Alberto Fabris onnipresente che ci ha proprio ci ha aperto gli occhi su che cosa sia il volontariato proprio sul nostro territorio a casa nostra e a dire il vero nessuno di noi bene sapeva nessuno aveva avevamo una vaga idea di che cosa fosse e con questo ci siamo avvicinati a una realtà sociale nostra di cui noi possiamo anche far parte a cui noi possiamo portare il nostro contributo molto bene molto bene non so se hai rubato la parola a Battigelli che aveva volontariato sì sì insomma ci siamo divise noi gli argomenti gruppo teatrale Giulia Cosimo Cosolo 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 è il computer è il computer è il computer è la colpa del computer boh non è il primo che sbaglia non è il primo computer di solito dicono Cosolo quindi è andata bene insomma è stato originale sì infatti buonasera allora io vorrei parlare del laboratorio teatrale che Almanzini dura da dieci anni lo scopo di questa attività è che i partecipanti prendano coscienza del proprio corpo dello spazio circostante e in questo modo riescano a relazionarsi meglio con gli altri ad abbattere in certi casi anche la timidezza si può dire insomma che abbiamo avuto risultati più che soddisfacenti sia in questo in questo senso che in senso anche artistico io sono in terza è il secondo anno che che faccio teatro e mi sono trovata veramente bene e sia l'anno scorso che ero proprio pischella non pischella molto pischella avevo paura anche solo di guardare gli altri in faccia quest'anno invece insomma quindi posso personalmente posso dire che fare teatro da sicurezza aiuta e non solo con gli altri ma proprio anche con se stessi aiuta ad accettare se stessi quindi sì bene molto bene sentiamola Manuela Malisano che ha esperienze di teatro se questo è se il Manzini è anche questo noi appunto l'abbiamo rifondato credo non si facesse teatro da molti anni nel 96 credo e dei dei nostri ci siamo io che mi sono diplomata alla vogheria Paolo Nicli che lavora in modo professionale Sara Chiarchos che è diplomata alla Paolo Grassi e lavora in modo professionale Miriam Paschini che lavora ufficialmente con Giuliana Musso quindi per noi è stata un'opportunità personale di lavoro ma soprattutto di divertimento perché veramente il teatro tira fuori cose da chiunque anche dalla persona più inaspettata cose che riescono a illuminare anche solo 5 minuti di una vita ma sono 5 minuti che non si dimenticano perfetto Santoro un indirizzo teatro no? ma magari un piccolo Dams un piccolo Dams da quelle parti sì se non so se sa che Dams in Furlan sì sì ho capito ho capito dove mi vuole portare no io io spero voglio dire che questa attività prosegua la persona diciamo così che ha seguito nel corso di questi ultimi anni il gruppo teatrale è in pensione beata lei è fortunata da un paio d'anni e però continua a collaborare con noi e spero voglio dire che questa disponibilità non venga meno perché perché anche io sono convinto della straordinaria forza educativa di questa esperienza molto bene prima di delle ultime due parole sulle prospettive dell'istituto io torno dal nostro amico Giacomo Tomat prima avevamo parlato dei Getrotal sostanzialmente no al microfono dategli un microfono scusate ce n'era due poi salti fuori anche l'altro voglio dire dovrò smentire perché al momento il repertorio è abbastanza ristretto limitato però per venirmi incontro cosa fai? proporrò la banera di Bizet va bene fai avanti grazie Grazie a tutti. Siamo perfettamente in orario e cominciamo un attimo a chiudere. Allora, professor Santoro, a lei dovrei chiedere delle prospettive. Mi pare però che il quadro sia a tinte chiaroscure, insomma, no? C'è un po' di grigio, non è né bianco né nero, ma insomma siamo in quella zona grigia che non fa né bene né male, ma tende più al male che al bene, credo, no? Com'è? Ma guardi, chi fa il mestiere che facciamo noi, diciamo così, educatori, non può essere e non si può permettere il lusso di essere pessimista. Noi stiamo, voglio dire, in mezzo ai giovani, scommettiamo su di loro, sono esattamente le risorse su cui investiamo e quindi io convintamente, personalmente, finché avrò la possibilità, cercherò di difendere questa istituzione. e mi pare, voglio dire, che forse anche, diciamo così, da un punto di vista politico, si aprano delle prospettive che ci possono aiutare. San Daniele ha finalmente, voglio dire, un nuovo sindaco, ne ho eletto, dopo questo periodo così, un po' di, no? C'è stato un commissario nell'ultimo periodo, visto che il consiglio si era dimesso, quindi, voglio dire... Diamo per letto. No, eh, diamo per letto. Voglio dire, questa cosa, questa cosa è importante e glielo dico perché, e la chiudo, non la faccio molto lunga, ma se la scuola è scuola, autonomia scolastica, si declina in questa capacità di rispondere a bisogni e esigenze del territorio e la scuola di San Daniele è una scuola di comunità e lo testimonio nei progetti, le cose che abbiamo detto, l'interlocuzione con gli amministratori, no? E quindi le relazioni e i rapporti anche interistituzionali sono decisivi e quindi, voglio dire, noi abbiamo bisogno di stringere alleanze per confermare ruolo, significato e importanza di una istituzione come il Manzini. No, stringere alleanze chi e con chi? Cioè, quali sono i soggetti? Ma io guardi, io... Cioè, voglio dire, le scuole, virgolette, periferiche, hanno una strategia comune, si sentono, si ascoltano, si parlano, si dicono? Le scuole, purtroppo, ecco, sa che cosa interviene e inquina poi anche questa discussione, la dimensione un po' localistica, no? E invece, quello che manca, e io mi auguro che si riesca in qualche modo a realizzare nei prossimi mesi, e su questo anche, voglio dire, gli amministratori regionali, la giunta regionale, la nuova giunta regionale, ha una responsabilità, perché lei sa che con la modifica del titolo quinto della Costituzione e il riparto di competenze, le regioni hanno, voglio dire, hanno competenza esclusiva in materia, per esempio, di dimensionamento della rete scolastica. Allora, quello che manca, quello che manca ed è mancato fino ad oggi, è un piano, no? Un piano, un progetto, ecco, di, voglio dire, servizio scolastico sul territorio, ecco, che superi la dimensione localistica, ma si costituisca in una dimensione proprio di rete, no? Allora, a San Daniele, che cosa, voglio dire, ha, qual è la vocazione, no? Ha anche produttiva, cioè, perché noi siamo, sì, percorso liceale, ma anche percorso tecnico, quindi avremo bisogno, abbiamo bisogno di trovare, naturalmente, rapporti e rapporti significativi, importanti, anche con il tessuto produttivo locale. Ecco, questo è, voglio dire, significa interpretare quelli che sono i bisogni e le esigenze anche di formazione che nascono dalla domanda del territorio. Questo, però, in una dimensione, chi governa dovrebbe essere capace di pianificare tutto questo, cosa che non è stata, fino ad oggi non è accaduta. Ci sono anche i ragazzi che hanno tutto un altro tipo di sentire, credo che comunque abbiano dimostrato nei fatti che il discorso che fa il dirigente, il preside, si attacca benissimo al vostro, perché con le sue parole andiamo a garantire un futuro a questo. Bravissimo. Grazie, l'ho fatto per questo. Dino Del Ponte. Volevo fare un'osservazione collegandomi anche a quello che dicevo prima, no? Cioè che ha cambiato idea sulle... No, 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 per salvaguardare, sì sì, sono i sassolini che si tolgono, poi abbiamo avuto dei confronti, dei confronti con il massimo rispetto, dico, idee diverse, ma con il massimo rispetto è veramente eccezionale. Per sottolineare quello che diceva io, sostengo il discorso che faceva il preside Santoro per quello che riguarda appunto la salvaguardia e farei di tutto, ma anche voi dovete capire l'importanza per salvare. Ma in un concetto di base voglio richiamare, la scuola, oltre ad essere un valore per il territorio, deve essere e mantenere la caratteristica del servizio, non dell'azienda. E' questo che rovina o ancora peggio dei centri di potere. Allora usciamo dalla logica del servizio, in dialogo col territorio e con le altre enti e associazioni del territorio per fare in modo appunto che cresca il territorio e faccia crescere la gente sul territorio. Si è aspettato che andassi via a cercare un microfono per concludere improvvisamente. Parli sempre per tre ore. No, 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 adesso... Cominciamo a ringraziare, cominciamo a ringraziare. Allora ringraziamo Nino Moro che ci ha traditi questa sera e pagherà il fio. Poi ringrazio la scuola, tutti quanti i ragazzi, le professoresse che hanno aderito al progetto, hanno lavorato sul progetto, potevano forse parlare un pochino di più senza essere tanto timidi. E poi coloro che hanno reso possibile l'assessorato regionale all'istruzione, l'assessore Molinaro che adesso cambia, la fondazione Crup, il presidente dottor D'Agostini Lionello e la provincia di Udine. Nonché l'autoservizio Tiepolo, che è stato un servizio ottimo, direi, e a prezzi ragionevoli, veramente. Se vi dico che voi potete intersecarvi nel discorso che faceva il preside, studiando e diventando bravissimi e diventando delle eccellenze friulane, vi mettete a ridere oppure la prendete sul serio? No, va bene, è troppo difficile. Avete paura? Pensate. Sono forlans, sono timid. Va bene, la prossima settimana? La prossima settimana abbiamo il Mattei Savonian di Brassà, Plosser di La Tisana e Martini, di La Tisana. Ah Martini, sì, di La Tisana. Scientifico, Martini di La Tisana. Benissimo, sarà una puntata senza altro interessante. Allora, Marzini, abbiamo detto una scuola 2.0, nel senso che è proiettata nel futuro, una scuola importante perché presidia un territorio particolare, una scuola tanto più importante perché in quel territorio si sta bene, si può star bene e si può stare anche meglio lavorando così, dopo essere passati per il Manzini, insomma, ci siamo capiti, no? Siamo a posto. Ok, grazie a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie.